Siamo all'Unipoldomus dove pochi minuti fa è arrivato il feretro di Gigi Riva accompagnato dalla folla che ha presenziato anche all'uscita dalla camera mortuaria dell'ospedale Brozu di Cagliari dove è morto ieri sera. Qui è tanta la folla che attende di dare l'ultimo saluto a Rombo di Tuono, leggenda del Cagliari Calcio. Un ricordo di Gigi? Il ricordo è che di Gigi ce n'è uno solo, indimenticabile. Da questo momento mi manca un grande amico, perché lui era amico di tutti noi compagni di squadra e di tutto il popolo sardo. Ho vissuto 40-50 anni con lui, è stata una persona eccezionale, poteva fare quello che voleva, non l'ha mai fatto, è sempre stato nelle regole. E devo dire che come giocatore non lo voglio giudicare perché era un grande, come uomo era un grande uomo. Siamo ancora tutti amici, oggi ha chiamato Cera, ha chiamato Albertosi, Dominghini, siamo ancora tutti uniti di quella squadra. Sono tanti, insomma, li custodite bene qui in Sardegna, perché lui è stato un tutt'uno con quest'isola. Siete stati un esempio, avete costruito una storia importante che rimane, Gigi Riva rimane. Rimane l'umiltà, rimane la modestia, rimane il senso della misura, l'onestà, la coerenza, tutti i valori, il coraggio, quanti valori ha seminato fuori e dentro il campo.